Ritmi e condizioni Cosa mi viene in mente subito? Mi viene in mente la colonna sonora di ogni film Ma che c'entra? Eh sì! Immaginate voi un film senza colonna sonora Sarebbe un film muto, appunto, degli anni che furono Perché vi dico questo? Perché ognuno di noi, quando si sveglia al mattino Ha un ritmo in testa Che è sempre diverso Come un film con la sua colonna sonora A seconda di come ci svegliamo Se io mi sento allegro Probabilmente avrò qualche pezzo di rossini Magari, no? Non so, la Gazzaladra O qualcosa di... Il Barbieri di Siviglia, no? Se mi sento un po' più cupo Prendo Beethoven, come la quinta di Beethoven Oppure, non so, se mi sento invece sereno Se mi sento innamorato Innamorato della vita Innamorato delle cose che faccio Perché quello è quello che ci fa vivere Allora penso a Cilea Sì, penso proprio a Cilea Il nostro Cilea Con una musica così bella, così suave Penso all'Adriano Lecuvrer Che è qualcosa di fantastico E così mi accompagna il ritmo per tutta la giornata E cambia sempre la musica La musica cambia sempre A seconda di come io mi sento Le connessioni E le connessioni oggi sono fondamentali Siamo tutti connessi La prima cosa che dobbiamo connettere È il cervello con la bocca Che spesso non è così Il cervello va per i fatti suoi E la bocca dice cose che non vorrebbe dire Il poeta ci dice Cosa dal sé infuggita Cioè non è il cervello che parla Ma magari il cuore Forse se parlasse sempre il cuore Sarebbe molto meglio Tranne che nell'infarto però In quel caso è bene che non parli Le connessioni tra di noi Sono connessioni fredde Oggi sentirsi accanto Sentire il profumo della persona Che è accanto Io insegno etica della comunicazione Questa si chiama prossemica Cioè la possibilità di stare vicino A un altro Ti fa capire Quanto tu voglia stare con quella persona E non è detto che quella persona Sia la tua moglie La tua compagna La tua fidanzata La tua amica No, no, no La persona ha qualunque Anche il macellaio Dove vai a comprare la carne Anche le persone con le quali Ti vedi tutti i giorni Questo è importante La connessione Quindi la vicinanza con le persone Oggi siamo sempre più lontani Siamo numericamente più connessi Qualitativamente poco connessi Perché ci connettiamo solo Poche volte al giorno Avete visto mai una coppia al ristorante? Non l'avete mai vista? Andate a guardarla Quando andate a lavorare Al prossimo altro ristorante Guardate due persone Che stanno a pranzo Magari i mariti e mogli O due fidanzati Tutti e due stanno così Col telefonino Sono connessi Col mondo Ma disconnessi tra loro Ecco La connessione Mi dà proprio questa idea Mi dà proprio questa idea